Il nostro simbolo, la chimera, il nostro cagnolino è tornato a casa ed è in una location veramente suggestiva, lo vedrete quando si inaugurerà la mostra, la mostra il prossimo 31 ottobre, ce la potremo godere fino a febbraio. Ieri ho parlato con il nuovo direttore del Museo archeologico di Firenze che ci ha dato questa disponibilità e lui mi ha detto che vuole creare nel Museo archeologico di Firenze e ci coinvolgerà come a Retini, ovviamente mi coinvolgerà, ma coinvolgerà un po' tutta la città attraverso me, un nuovo locale solo per la chimera. Quindi è diventato un monumento per tutti, ma è il nostro e ora ce lo godiamo per tre mesi. È tornata ad Arezzo la chimera, il bronzo etrusco, simbolo indiscusso della città, nonché capolavoro dall'inestimabile valore che sarà protagonista di una delle mostre più attese dell'anno, Vasari, il Teatro delle Virtù. In occasione dei 450 anni dalla morte di Giorgio Vasari, la città rende infatti omaggio al suo concittadino con una grande mostra con oltre 100 opere, tra inediti, pale monumentali e capolavori provenienti dalle più note istituzioni estere, oltre che da collezioni private. Ad ospitare l'esposizione dal 31 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025, la Galleria Comunale d'Arte Moderna e Contemporanea e i suggestivi spazi dell'ex chiesa di Sant'Ignazio. Questa è diventata assolutamente una delle mostre più importanti d'Italia in questo periodo, natalizio e del nuovo anno, perché rappresenta non soltanto la mostra della pittura di un grande intellettuale della sua epoca, ma rappresenta un sistema complesso di arti diverse impersonate da Vasari. Noi mostriamo la pittura, ma di fatto il fatto che lui sia in realtà l'inventore della storia dell'arte italiana e quindi un grande scrittore e soprattutto dal mio punto di vista un grandissimo architetto farà in modo che questa mostra avrà veramente un successo impressionante ed è una mostra internazionale, occorre dirlo. Le opere di Vasari che sono in tutti i musei del mondo e questo ne testimonia l'importanza, sono tornate rispetto per un periodo di tempo abbastanza breve, da ora fino al 2 di febbraio, ma sono tornate ad Arezzo dove sono state concepite quantomeno alcune di esse dipinte.